Noi stiamo chiedendo da tempo e lo faremo ancora nel prossimo incontro con il Governo di poter riaprire prima della fine del mese le attività che potranno farlo rispettando i protocolli di intesa perché se il trend di decrescita della curva epidemiologica è confermata ritengo che sia insostenibile la chiusura e ovviamente lo faremo a ragion veduta, senza mettere a repentaglio la salute e il buon andamento della curva. Questo però deve tenere la speranza perché la chiusura indeterminata che oggi stanno vivendo molte attività economiche rischia di mortificare in modo definitivo un'attività del terziario che nell'ultimo anno ha subito un colpo mortifero e quindi noi metteremo in campo e lo stiamo raccontando già da oggi e lo faremo nelle prossime settimane una serie di iniziative anticicliche che possano dare fiducia e mettere anche in campo delle risorse per far ripartire l'economia, soprattutto anche quella legata al commercio con una serie di iniziative, abbiamo fatto già diverse proposte di legge quindi stiamo intervenendo concretamente sul sistema legislativo regionale però certo è necessario che a fianco a questo ci sia anche qualche certezza purtroppo questo periodo è stato condizionato da troppe incertezze da troppe varianti che non potevano essere gestite in modo razionale e per quanto riguarda il commercio e gli affari il fatto di non avere certezze ma di avere continui rischi di cambiamento di regole questo è qualcosa che è davvero difficile da gestire